La votazione nominale finale mediante procedimento elettronico del disegno di legge già approvato dal Senato numero 1665. Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116 terzo comma della Costituzione. Bene, la votazione è aperta. Squeri? Abbiamo votato tutti. Onorevole Squeri ha votato, sì. Fede? Attendiamo l'onorevole Fede. Bene, la votazione è chiusa. Presenti 272, votanti 271, maggioranza 136, favorevoli 172, contrari 99. La Camera approva. Grazie. 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 Grazie.